Euro Regioni News Lodovica Comello canterà in Castello Udi nel 21 luglio. Alle due friulane più famose del momento, Lodovica Comello e Deborah Seracchiani, ho chiesto che rapporto hanno con il mondo dell'altra. Preferisco sempre non parlare di politica perché sono proprio, mea culpa, ignorantissima. Però è questo un lato su cui io insisterei, perché ci sono tanti giovani che come me la ignorano e penso dovrebbe essere una materia, dovrebbe fare meno spavento, un po' come la matematica. È troppo complicata, quando sento parlare di politica mi viene mal di pancia, come quando facevo i compiti in classe. Quindi niente, forse dovremmo parlarne di più a scuola probabilmente, dovrebbe essere inserita probabilmente anche come materia scolastica, incentivare al dibattito, alle discussioni, insomma dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti, secondo me. Il mio rapporto con la musica direi che è molto buono, insomma, in momenti importanti della mia vita uno dei ricordi che ho sempre prezioso è una musica, una tonalità, un suono, un cantante, un video. Insomma, resta sempre impresso nella mia mente, nel mio cuore, un ricordo. Da Udine per Euroregioni News, Marco Mascioli Euroregioni News